Degli arbitri d'area così, l'impressione vispera fuori è che non abbiano risolto molti dubbi, hanno deciso, però anche in occasione del rigore non hanno convinto tanto. Ma io non saprei cosa dire, perché sono lì, quando vengo a lavoro, io non sono un po' a giudicare gli arbitri. Come ti sei trovato con Pabonato? Sono trovato bene, non ho difficoltà dell'alguno, non ho nessuno, quindi sono da dunque un po' di... Come soluzione lì davanti, forse un uomo più di peso al tuo fianco, oppure insomma ti hai preso tanto che mi siete mosso? A me è importante quando sono un 11 giocatore di fare bene, portare lo stato fisico di tantezza, per me devi dare tutto e basta. Troppo forte la Juve a un certo punto o vi è mancato qualcosa? Penso che ci sia mancato qualcosa, comunque si può fare qualcosa, non mi ha sposto. Cosa? Se doveva andare a vincere, se doveva andare a parigiare, però sicuramente è già più di quell'istante così. Il campionato di intercoltiero, il campionato vero, oggi insomma è un avversario fortissimo. Non era passato oggi, ma in partita sono tutti da prendere, non è un minis, è andato male, è passato oggi, è andato male e quando non è andato. Jonathan, che il fatto di giocare diciamo in attacco, anziché sulla fascia, è stato un esperimento provato da tempo, da Donadoni, da quando si sapeva più o meno che Amauri era indisponibile oppure è stata una novità dell'ultimo momento? No, il mister è stato comunque, io posso giocare in più roli, quindi se mancano un po' di gente sono l'espressione, sono l'espressione mistero. Comunque mi metto io darò un certo concentro e vado al massimo. È differente tra giocare con Giovinco e giocare con Paboncio ne sono? No, sono due giocatori simili, quindi guardo il mio compagno che c'è vicino e penso che ha fatto bene e si muove bene.